L'altro giorno nella chat dell'Accademia Neurocognitiva gli allievi si stavano scambiando le foto di quello che stavano leggendo in vacanza. E quest'anno fondamentalmente i libri più gettonati erano due. Burrus, perché li ho costretti ovviamente, ma anche L'errore di Cartesio di Antonio Damasio. Allora quando ho visto questo libro ho condiviso con loro alcune curiosità. Intanto è un libro che si fa leggere bene come quelli di Oliver Sacks o di Ramachandran. Perché Damasio ha quello stile narrativo in grado di spiegarti argomenti di neuroscienze piuttosto complessi, però in maniera assolutamente potabile. Una curiosità che avevo condiviso con loro è che Perfetti non aveva mai digerito questo titolo, l'errore di Cartesio. Il presunto errore di Cartesio è stato quello di dividere il corpo dalla mente. La res extensa dalla res cogitans. E chi si occupa di riabilitazione neurocognitiva sa bene che questa distinzione tra mente e corpo rappresenta un ostacolo per il recupero. Anche a livello pratico, no? Il fisioterapista che si occupa solo della parte fisica, lo psicologo, il neuropsicologo che si occupano solo della parte cognitiva. Come se le due cose fossero separate. Come se per muoversi e per recuperare il movimento non siano necessari anche i processi cognitivi. Allora perché questa distinzione tra mente e corpo, di cui poi tra l'altro Cartesio è stato uno dei massimi artefici, non ha trovato riscontro e consenso imperfetti? Perché riteneva questo titolo ingiusto. Attribuire un errore a Cartesio, che nel 1600 era in grado di parlare di mente, di corpo, in maniera piuttosto disinvolta. In un periodo in cui, se dicevi qualcosa di leggermente un po' più intelligente della media, minimo finivi arrostito in piazza. E in quel periodo in cui si conosceva ben poco del cervello, si pensava che la mente fosse il risultato dell'azione di fluidi spiritici che navigavano tra i ventricoli cerebrali. E Cartesio invece parla di mente come elemento naturale dell'esistenza dell'essere umano. Cogito ergo sum. Penso dunque sono. Insomma è stato piuttosto coraggioso. Non solo, va attribuita anche a Cartesio l'associazione fra l'uomo e la macchina. Cartesio associava il nostro organismo al meccanismo di un orologio. Anche questo è un modo di ragionare nei confronti del corpo su cui noi ci battiamo. Perché vivere il corpo come una macchina non è molto funzionale al recupero dopo una lesione cerebrale, ad esempio. Perché la macchina è fatta di pezzi che si riparano, di parti meccaniche. Mentre il recupero richiede apprendimento. Secondo Perfetti neanche la paternità di questa metafora, uomo-macchina, giustificava la durezza di questo titolo. L'errore di Cartesio. E si fa presto a dire errore di Cartesio. Comunque, perdonando il titolo, è un libro molto interessante. Tra l'altro la prima parte parla di sindromi frontali. La moglie di Antonio Damasio, che si chiama Anna Damasio, è una profonda studiosa delle sindromi frontali. E tutta la prima parte è dedicata a queste. Quindi qualora ci fosse una sindrome frontale, sia da pazienti, è un libro che possono leggere tutti, sia da professionisti, questo è un libro consigliato. Perché ci aiuta ad esplorare tutto il mondo delle lesioni frontali. Direi che è consigliato in generale perché la maggior parte delle lesioni ischemiche avvengono a carico dell'arteria cerebrale media, che irrora i territori dei lobby frontali, parietali e temporali. Quindi queste lesioni ai lobby frontali più o meno ci stanno quasi sempre. Un altro argomento molto interessante trattato in questo libro di Damasio è la teoria del marcatore somatico. Perché è interessante? Perché ci aiuta a comprendere che ogni azione, ogni movimento, ogni istante del nostro agire è associato ad una sensazione. Ora però questa sensazione è un insieme integrato di milioni di piccole sensazioni messe insieme. Cose che percepiamo esternamente e internamente, anche le risposte ormonali. Ora tutti questi pezzi messi insieme rappresentano un quadro che lui definisce il marcatore somatico. Che in effetti quando facciamo terapia con i pazienti e vogliamo fissare una determinata sensazione in seguito al recupero di un movimento o al recupero di un gesto pulito, chiediamo al paziente di descrivere quella sensazione. È come se volessimo creare un'etichetta su un contenitore dove mettere quel ricordo da poter utilizzare in futuro. E voi che libro vi state leggendo? Che vi siete portati in vacanza? E questo di Damasio l'avete letto?